una materia molto densa finché siete uomini non potete capire l'uomo a cura dvb domanda che cosa intendete per sottigliezza delle materie guida intendiamo che il piano fisico quello in cui voi avete attualmente la vostra consapevolezza è composto di una materia molto densa che è compenetrata dalla materia degli altri piani di esistenza cosicché gli altri piani esistono contemporaneamente mescolati l'uno con l'altro nel qui ed ora fisico questo significa che ciò che vi circonda anche se voi non ve ne accorgete è costituito da materia fisica astrale mentale e a casica e via via grazie 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 grazie